Signori eccoci giunti al recap settimanale della Nipo Knights Cup di aprile che ha visto la prima giornata con questa nuova patch, questo nuovo meta Signori il vincitore è stato il grandissimo MCG con una finale bellissima contro il Raph 33 Quindi si fa giudicare i primi 10 punti di questa season Vi ricordo che il vincitore oltre a diventare VIP del canale potrà ottenere una serata di coaching in live con lo zio Quindi un motivo gigantesco per giocare la Nipo Knights Cup ma anche semplicemente per stare tutti insieme ogni martedì alle ore 21.30 Mirko 93, terzo classificato 3 punti, 2 punti invece per Sono Scarso Quindi la classifica è praticamente la stessa della top 4, 10 punti per Mick, 5 punti per Raph 33 Mirko 93, 3 punti, 2 punti per Sono Scarso, un punto per tutti gli altri nipotini che hanno partecipato Signori la cavalcata sarà ancora lunga, scopriremo nelle prossime settimane chi sarà il nipotino del mese di aprile Noi ci becchiamo tutte le sere live ore 21.30 Non mancate